Dall'audizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai del 18 ottobre 2007. Allora, volevo dirle questo. Io non so se lei ha parlato con il suo ufficio stampa prima di queste... Lei avrà notato una cosa, che è un motivo per noi di grossa angoscia, e cioè che con il partito radicale non si riesce ad avere un rapporto normale. Con il partito radicale si deve aprire una pratica, che spesso è una pratica paralegale, nel senso che si sa che poi si finisce la cosa eccetera. Cioè, mentre noi telefoniamo con tutti gli altri partiti, telefoniamo e diciamo Venite? Sì? No? Grazie? Arrivederci. Pronto? Salvatore Sottile. Bruno? Salvatore? Ehi! Senti, com'è strutturata la trasmissione? Eh, niente, dipende da voi. No, aspetta. Gliela strutturiamo, gliela confezioniamo addosso. Che fai? Fai una ricostruzione sui documenti che ci sono? No, no, allora ti facciamo il Berlusconi in Parlamento. Berlusconi in Parlamento? Perfetto. E poi i due rapporti insieme. I due rapporti insieme? E poi un pezzo sull'inchiesta di Ionta, eh? Un pezzo sull'inchiesta di Ionta. Esattamente. E basta, insomma. E poi facciamo un pezzettino, niente, domani viene a fare una conferenza stampa all'avvocato di Saddam Hussein. E se a lui facesse piacere lo potremmo invitare, ma se no facciamo un pezzettino. Quello che dice nella conferenza stampa. Ma vabbè, fai un pezzettino della conferenza. E come contraddittore? Non so, tu chi c'hai? Fassino, chi c'hai? Eh no, non lo so. Uno che proponevamo noi, se lui non ha niente in contrario, sarebbe Rutelli. Non gli va? Non lo so, non lo so. Aspetta un attimo. E di altre persone chi c'è? Chi c'è in più? Di altre persone ci sarebbero Mario Arpino. Mario Arpino. Mario Arpino e Margelletti, eventualmente. Margelletti, ho capito. E poi in collegamento Lutvac e Rula. Minchia! Ma se li volete, eh? E Rù, gente che ci va in punta di vanga. Sì, sì, sì. Sì, sì, ecco. Sento però dei segni di assenso da parte del tuo principale. No, non senti nessun segno di assenso. Siccome sa che tu sei un pessimo giornalista. E che infatti, allora, che facciamo? Proviamo con Rutelli? Gianfranco che dici, Rutelli? Proviamo. O proviamo a Fassino. E che Fassino è venuto molto spesso, capisci? È venuto sempre lui. Uno vale l'altro, mi ha detto. L'uno vale l'altro. Va bene. Alle 18 va bene? Alle 18 ti va bene? Prima, prima, prima. Dimmi a che ora? Prima è 16.30. 16.30. Sì. Benissimo. Domani? Domani alle 16.30. Aggiudicato. Vabbò, ciao. Ciao, ciao. Per liberare l'informazione dai partiti, per legalizzare e moralizzare l'Italia, partecipa al Sesto Congresso di Radicali Italiani, a Padova dal 1 al 4 novembre. Tutte le informazioni su www.radicali.it oppure telefona allo 06689791.